Quanti di voi conoscono Giro Taniguchi? Quanti di voi hanno letto Blanca? Ciao a tutti, benvenuti o ben ritrovati su Fumetti e Parole. Oggi appunto parliamo di questo volume. Il maestro Giro Taniguchi ha creato un capolavoro anni fa, per carità, ma ancora oggi è considerato uno dei volumi più importanti del mangaka. Ce ne sono veramente tante di storie molto molto belle del maestro. Ho, mi pare, postato su Instagram l'immagine della copertina. Ho chiesto un po' alle persone che mi seguono su Instagram Se avessero, oppure no, letto, apprezzato il volume, molti mi hanno detto, ah, molto meglio gourmet, molto meglio l'uomo che cammina, è al tempo di papà, è perfetto. È la vita degli dèi, piuttosto che... Ognuno ha una passione, un posizionamento differente. Blanca, comunque, è da molti riconosciuto come un capolavoro. Non so se definirlo così. Sicuramente è una figata pazzesca, una storia bellissima, una capacità, come sempre, del resto, in Taniguchi funziona così, grafica decisamente elevata, è un pathos che ti prende dalla prima all'ultima pagina. Prendetemi in giro, ma io immaginavo che questo fosse un cagnolino di una tenera famiglia giapponese. Per carità, in questa foto si vede che, insomma, qui c'è un bel salto, forse anche sproporzionato, ma con, no, dei denti aguzzi, insomma, dei canini belli pronti a mordere, con un occhio bello vispo, quasi arrabbiato. Ok, va bene, non lo so perché, mi ero immaginato questo Blanca come un racconto molto lento, molto delicato, non solo delle vicende di un cane, ma della famiglia dello stesso. Ebbene, non è assolutamente così, anzi, sono rimasto stupito e sono contento di questo. Sono contento di essere, insomma, stato un po' stupito da quello che stavo leggendo. Molto meglio, tra l'altro, questo tipo di approccio perché? Perché documentarsi troppo, scendere un po' nel particolare, magari vedere video di altri youtuber, oppure cercare delle recensioni, su qualche blog, può avere un senso, quindi se è vostra abitudine farlo, fatelo, ma in realtà sono piacevolmente stupito spesso quando proprio non so assolutamente nulla della storia che andrò a leggere. Perché proprio mentre la leggo e metto anche dei suoni, tipo, no, ma veramente, ma che figata! ecco, queste scene sono quelle che mi riempiono, no, la serata. E quindi, insomma, se vi aspettate un cagnolino docile, docile, non si parla di Blanca. Blanca è un cane, non lupo, ma un cane che in realtà ha delle doti decisamente particolari, ha una forza incredibile, una capacità intellettiva, cognitiva, non pari all'uomo, ma comunque decisamente elevata al di sopra della media canina. Fondamentale guardare le immagini di Taniguchi perché il suo realismo è veramente ficcante. Per carità, avrete già visto chissà quante tavole del maestro, quindi qui non verrete stupiti tanto dal dettaglio dei volti e neanche, se volete, da ciò che è, sono gli elementi naturali perché già con, le avete degli idee, K, eccetera, abbiamo già potuto godere della bravura del mangaka, ma in realtà in questo caso l'animale è al centro ovviamente di tutta la vicenda. Vediamo un po' cosa tira fuori. dotato di occhiali, vado a leggere ciò che in quarta di copertina viene, insomma, regalato un po' agli ignari lettori del volume. La grandiosità della natura. La percepiamo nella bellezza di un paesaggio innevato, nella violenza di un mare in tempesta. La sentiamo scorrere dentro di noi, nei richiami del sangue. Ordini atavici ai quali non possiamo non rispondere. Eppure l'uomo non riesce a rispettare tutto questo nelle altre forme di vita. Tenta di catturarle, di imbrigliarle, di dominarle, fino a che non è la natura stessa a ribellarsi. Queste parole per me, benché abbiano un senso, non sono realmente affini con la vicenda che viene raccontata. Cioè, quando si parla di rispetto della natura o mancato rispetto della natura, non solo sono d'accordo con questa affermazione, ma non basta per descrivere ciò che è la vicenda di Blanca. Qui si parla quasi di esperimenti scientifici che vanno al di fuori di quello che è l'accettabile, no? Quell'invalicabile livello di accettazione in questo caso viene superato. E viene prodotto quindi un'arma, un animale per carità, ma è sostanzialmente un'arma capace di uccidere uomini o animali perché Blanca è dotato di una superpotenza, una resistenza al di fuori della norma, una forza al di fuori della norma canina. Addirittura riesce ad abbattere degli animali di grossa taglia, cosa praticamente impossibile se non per 4-5 cani come Blanca insieme che contemporaneamente vanno ad attaccare la loro preda. Ecco, però da questa sinossi non si capisce la mazza di tutto questo. La cosa molto interessante è tutto ciò che c'è alle spalle della vicenda di Blanca. Le due cose che mi hanno principalmente interessato sono il rapporto di Blanca con la sua famiglia e la questione politica militare. Insomma, questo retroscena molto molto forte. Nel primo caso vediamo una ragazzina molto mal disegnata, ma più che altro perché la resa grafica ci porta quasi una trentenne, le sembianze di una trentenne in realtà si capisce che è una ragazzina. Quindi questa padroncina ha un rapporto molto forte, un legame molto forte con Blanca, beh che questa sia molto lontana. Lei è a New York mentre il cane protagonista della vicenda è in Canada. Sostanzialmente sta dirigendosi verso est sud est proprio per raggiungere la sua padroncina, ricongiungersi con la sua famiglia. Questo rapporto viscerale è molto molto interessante, tenerissimo se volete, forse anche esagerato perché è difficile pensare che insomma anche i poteri Blanca possano aumentare la sintonia con la padroncina, ma tanto è. La seconda cosa appunto è la vicenda, il retroscena politico. Blanca viene considerato tutti gli effetti un'arma, un'arma governativa che se tenuta sotto controllo è un qualcosa di fortissimo, di importantissimo, anzi duplicabile. Nei momenti in cui invece quest'arma praticamente è a piede libero deve essere assolutamente bloccata. Le motivazioni sono due. La prima è un pericolo, la seconda, nessun altro potere politico, governo, paese deve essere a conoscenza di quest'arma e anche della capacità di creare un'arma di questo tipo. Quando parlo di arma parlo proprio di una Blanca che va a uccidere chiunque luminacci con semplicemente con il suo artiglio con i canini sulla giugulare con una velocità inenarrabile quindi qualsiasi fucile qualsiasi attacco viene previsto da Blanca viene anticipato e viene insomma reso praticamente inutile. Ecco non è soltanto il governo i militari che cercano di elevare lo stato di rischio il livello di attenzione quindi anche di attacco ma anche tutto quello che c'è dietro si crea proprio una specie di thriller perché poi ci sono delle fazioni che fanno di tutto per poter cercare e abbattere Blanca e anche capire qualcosa di più delle vicende. Oltrepassato lo stretto di Bering fino a New York questo è un po' il tragitto di Blanca braccato dal governo altro elemento fondamentale è che questi prima di agire attraverso l'esercito in diretta hanno affidato la ricerca di Blanca a più gruppi bracconieri e non so una cosa molto interessante è l'ultimo elemento che è quello spirituale quasi anzi vi cito proprio in questa vignetta molto ben raccontato un uomo morente dice quello è un torngak cioè uno spirito malvagio è il mostro con le zanne bianche uscito dagli incubi da bambino mio nonno mi raccontava la sua storia e adesso ho scoperto che è realtà quindi Blanca insomma ovviamente l'espediente per raccontare un po' il fascino culturale viene considerato un po' la personificazione di questo spirito maligno e di conseguenza anche da questi bracconieri più che altro da uno in particolare verrà poi per la maggior parte del volume ricercato la cosa bella è proprio questo intrecciarsi fra le vicende di Blanca le vicende della ragazzina che non vede l'ora di poter ricongiungersi con il proprio cagnolino le vicende governative i bracconieri ecco questo susseguirsi fra thriller natura dinamismo uccisioni sparatorie caniche insomma con artiglie con le zanne strappa la giugolare insomma tutto questo è una commistione decisamente interessante disegnata con una maestria incredibile non capisco perché questo volume cartonato da 25 euro è definito un'edizione porno lusso cisti walla uber alles probabilmente perché è cartonato probabilmente perché la carta è molto molto spessa e quindi anche vedete la fogliazione ovviamente è la medesima anche di altre edizioni ma il volume è bello spessotto non so se ho fatto bene ad acquistarlo perché in libreria occupa un sacco di spazio detto questo non l'ho pagato il prezzo di copertina cioè 25 euro ma decisamente di meno come finisce la vicenda esattamente come dovrebbe finire mi aspettavo che Giro Taniguchi non sparasse fuochi d'artificio ma facesse finire in silenzio in maniera anche romantica in maniera poetica la vicenda e così è stato quindi sono grato al mangaka che tutti definiamo un po' il giapponese più occidentale dei maestri del fumetto giapponese perché ha quella capacità di rendere le storie molto vicine a noi non esaspera quasi nulla e benché racconti di un cane con superpoteri in realtà la cosa sembra molto tangibile e il finale fortunatamente esattamente quello che mi aspettavo molto importante però una lettura che vi consiglio senza senza dubbio decidete voi se acquistare questo volume oppure no io ve lo consiglio perché soprattutto se siete amanti degli animali è una lettura estremamente piacevole vi mangiate le pagine una dopo l'altra fa una bellissima figura nella vostra libreria e insomma di Girotaniguchi benché abbia scritto un sacco di storie questa io la metterei nella posizione alta della classifica quindi vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video vi saluto vi do appuntamento al prossimo contenuto ci leggiamo nei comment fatemi sapere cosa pensate non del video ma di Blanca l'avete letto? vi è piaciuto? scrivetelo ciao